Quando si perde, dispiace a tutti, però noi ci mettiamo sempre la faccia con serenità. Io credo che non eravamo campioni domenica scorsa e non siamo brocchi oggi. Se avessimo fermato il film della partita dopo l'1-1 e al tiro di Salvemini che è uscito di un soffio, nessuno avrebbe immaginato che poi la partita sarebbe potuta finire così. 5 minuti di blackout totale abbiamo preso 3 gol, di cui 1 onestamente è un grandissimo gol, quindi poco da dire. Poi dopo è chiaro che sul 4-1 in 5 minuti è onestamente difficile rimettere in piedi una partita. Però io credo che noi dobbiamo continuare a lavorare con la serenità che ci contraddistingue. La società è qua a testimoniare protezione, stima e rispetto per i suoi giocatori, per il suo staff tecnico, per il suo mister, per cui io sono sereno. Vedo un percorso di crescita, ho visto una squadra che ha tenuto il primo tempo molto bene il campo, secondo me è equilibrato, forse una squadra forte. Giocare in uno stadio così, con un pubblico che incita costantemente la sua squadra tutta la partita, è chiaro che noi siamo una squadra giovane, quindi possiamo anche soffrire questo tipo di esperienza. Però ritengo che abbiamo tutte le carte in regola per continuare a fare bene. Dobbiamo sapere bene dov'è il nostro posto. A me dispiace se qualcuno si esalta, noi sappiamo che dobbiamo sempre avere cattiveria e determinazione e quindi continuare a sudarci tutte le partite. Io sono qua, sono sereno, ripeto, sono dispiaciuto profondamente perché non può essere altrimenti, perché credo che poche volte abbiamo preso una scoppola così, però onestamente non è un risultato figlio di una prestazione, è un risultato figlio di cinque minuti di amnesia, perché se sto con quei cinque minuti io credo che la partita sia stata sostanzialmente equilibrata. Anzi, ripeto, se fosse andato il gol del 2-1 in Salvemini, poi onestamente non so, però nel calcio non serve perché sbagli il gol, prendi il gol e poi dopo in cinque minuti appunto ti trovi disastrosamente sul 4-1 ed è finita la partita. Per cui prendiamoci il buono di quello che abbiamo fatto e prendiamo anche consapevolezza che dobbiamo sempre stare testa giù, testa bassa e pedalare, per cui i tifosi stiano vicini alla squadra, come vicino alla società, come vicino allo staff tecnico. Ecco, conferma di quello che diceva, comunque si è visto in potenza all'altezza dell'aria.